Tutto pronto comincia la seconda frazione Taylor Si affida una fitta rete di passaggi Palla riconsegnata agli avversari Entrata che immagino verrà punita con il giallo E' arrivato il cartellino giallo per lui Sensazione che se lo aspettasse Piero Si immola il difensore Non trattiene, attenzione Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino E l'arbitro estrae il cartellino Giallo, giallo C'era da aspettarselo A spazio Recupera la palla con un contrasto deciso Ma corretto Bravo a intercettare il passaggio Non che fosse difficile Occhio al suo movimento Taylor Tiro respinto ma la palla è ancora in gioco C'è cambio in vista per la squadra di casa Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto Di come sono schierati in campo i suoi uomini Può colpire da lì C'è l'errore, palla recuperata L'arbitro dà la norma del vantaggio Taylor Palla recuperata dagli avversari È in buona posizione Prova col filtrante profondo Ma non granché il cross La difesa a vita facile Prova ad andare in progressione Prova ad andare in progressione Intervento efficace È arrivata l'ammunizione da parte dell'arbitro Pensava di averla fatta franca forse Ma l'arbitro attento Ha solo concesso il vantaggio Ha disputato una prova convincente Decisamente positiva Era fra i più attesi E si è fatto trovare pronto Pallone perso Pallone riconquistano gli avversari Buona lettura dell'azione Ha intercettato bene il passaggio Ha spazio per andare Hanno sfiorato il gol del pari Bel tentativo dell'attaccante Che meraviglia Non era facile trovare la porta da lì È mancata un pizzico di precisione Grazie a tutti Grazie a tutti Alla prossima Ho Alla prossima Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Può ricevere una posizione interessante. Gran botta che per poco non finiva dentro. Pallone che ha sfiorato in palo. E' uscito davvero tu niente. Davies. Perdono palla. C'è l'errore, perdono palla. Il pubblico di casa capisce che questo è il momento. Qui si può fare la storia e allora continua a incitare la squadra. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Taylor. Partita agli sgoccioli può essere una delle ultime occasioni. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Vivo dalla bandierina, una delle ultime possibilità per pareggiare. E qui nel replay, rivediamo il tentativo precedente, andando veramente a un passo dal gol. Ha angolato troppo il tiro. Non è uscita fuori una conclusione potente, ma è imprecisa. Occhio al corner. Allontana bene il difensore. C'è campo per andare, attenzione. Occhio qui alla ripartenza. Occhio a un pallone importante per chiudere la partita, attenzione. E c'è il gol, palla in rete. Azione del gol che merita di essere rivista contro chiede micidiale, direi. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione, la chance che gli è capitata, bravo. Mancano tre minuti alla fine della partita. Davies. Taylor. Ci sono state tante interruzioni, dunque quattro minuti di recupero. 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 Vicefischio che mette fine al match, ora è ufficiale, solo al prossimo turno. Hanno mantenuto i nervi saldi e la lucidità necessaria per strappare il basco. Il prossimo turno, partita equilibrata, combattuta.